Siamo di fronte a una terribile epidemia, anzi a una sindemia, cioè l'insieme di due malattie che esistono simultaneamente, una di origine virale, il Covid, l'altra di origine sociale, la povertà. Bisogna agire, agire subito. Contro il Covid bisogna garantire a tutti la possibilità di accesso ai vaccini gratuitamente. Non può esistere profitto su questa pandemia. Tutti i cittadini devono poter avere accesso alle cure in modo limpido, trasparente o uguale. Grazie. 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 Grazie.